Una strozzatura della linea ferroviaria sulla tratta adriatica lunga 35 chilometri, un solo binario tra Termoli e Lesina che costringe a gestire il traffico su rotaia confermate all'altezza della città oppure alla stazione di Chieuti al confine con la Puglia. Sembra un paradosso quando l'alta velocità continua a collegare altre zone del paese, eppure da anni si aspetta un'opera ritenuta necessaria che andrebbe ad agevolare i collegamenti e il traffico commerciale. In attesa di un accordo e del via libera definitivo al progetto del doppio binario, si parla anche di opere compensative, quelle che la rete ferroviaria italiana andrà a realizzare nei territori interessati in cambio di un intervento comunque invasivo. Di questo si è parlato nel corso di un incontro tenuto al Ministero delle Infrastrutture, al quale hanno preso parte il sindaco di Termoli Antonio Di Brino, l'assessore Vincenzo Sabella, il consigliere Agostino Defensa e il dirigente Belpulsi. Sindaco Di Brino, il progetto è in una fase iniziale, si aspetta la conferenza di servizi, intanto quali sono le vostre proposte? Innanzitutto abbiamo recuperato quelli che erano gli accordi dei sindaci che mi hanno preceduto, quindi di Gian Domenico per il 2005 e Greco 2006. In più l'abbiamo integrato con delle misure compensative assolutamente necessarie, perché vi sono delle aree che attualmente il Comune occupa in maniera impropria, diciamo così come il parcheggio di Via Campania e Piazza Donatori di Sangue, che sono ancora aree di proprietà delle ferroviere dello Stato. In più in questa occasione non rinunciamo però a un'idea che potrebbe cambiare il volto della città di Termoli per il futuro, cioè quella di immaginare una possibile delocalizzazione della stazione ferroviaria. Dove? Nella zona di Riovivo Marinelle, in modo tale da poter unire le due stazioni di Termoli a Campomarino. C'è anche una condivisione da parte del sindaco di Campomarino, però questa è una decisione molto delicata che va presa coinvolgendo la collettività e la cittadinanza.